E' stato riconosciuto da uno dei carabinieri della compagnia di Giarre che nella notte tra martedì e mercoledì hanno intercettato in fuga su una Fiat Punto due componenti del commando che poco prima aveva assaltato, devastandolo e portando via il postamat, l'ufficio postale di Altarello. Mentre fuggiva tra le campagne di Praiola, dopo aver abbandonato l'auto finita fuoristrada, uno dei malviventi ha perso il passamontagna ed è stato visto dal militare. Si tratta del 37enne di Acicatena, Alessandro Longo, già in prova ai servizi sociali. A quel punto ieri è scattata una massiccia caccia all'uomo che ha visto impegnati i carabinieri delle compagnie di Giarre e da Cireale supportate dall'alto da un elicottero dell'arma. Nel frattempo il malvivente, la cui abitazione era già stata perquisita, visto sia accerchiato sia recato nella caserma dei carabinieri di Acicatena in un ultimo disperato tentativo di depistaggio. L'uomo ha raccontato di essersi allontanato da casa per due giorni dopo aver litigato con la moglie, ma il 37enne, ormai identificato dal carabiniere, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania in attesa della convalida del GIP. Le indagini proseguono per identificare i complici.